Sono contento perché anche in un convegno così importante di Confindustria emerge che il Lazio ormai è la regione leader in Italia sulle produzioni di cinema audiovisivo. La seconda regione europea dopo Berlino-Brandeburgo è prima di Parigi-Lille de France grazie a sei anni di politica attiva sulle produzioni, sulla formazione professionale, sull'internazionalizzazione, sul sostegno alle sale. Questo conferma che quando ci sono dei talenti e delle potenzialità se ci sono politiche innovatrici i risultati si vedono perché solo sulla coproduzione abbiamo finanziato 67 coproduzioni stravolgendo i numeri e portando qui tanto lavoro e tanta qualità. Sarà una bellissima direzione per una bellissima lista che sorprenderà tutti. La lista più bella e più importante, ora vi mettono sotto però. Ma lui dice bugie, io dico sempre la verità, per questo vincono.